Ciao a tutti e benvenuti su Stilograficamente, il canale riservato al mondo delle stilografiche. Oggi prenderò in esame una Pelican M150. Questa Pelican mi è stata gentilmente concessa, incomodato d'uso, da un mio nuovo amico. È una penna che mi ricorda la sua estrema correttezza e umiltà, quindi rientrerà tra le pene del cuore. Allora, cosa posso dire? Non è un esemplare sconosciuto, anzi, è ampiamente diffusa negli anni 80-90. Infatti, vabbè, come possiamo datare una stilografica, soprattutto tedesca, dal fatto che compare la scritta West Germany, ok? Quindi se c'è una W davanti, come in questo caso, parliamo di una penna che è sicuramente antecedente al 1990, anno di caduta del muro di Berlino. Le caratteristiche sono quelle proprie di una Pelican, quindi notare la clip a forma di becco di Pelicano. La clip è abbastanza rigida, ma fa il suo lavoro. Termina con non proprio una goccia, ma diciamo una bombatura che è morbida, quindi consente un facile utilizzo della clip che dovrebbe scivolare sul taschino tranquillamente. È una penna che ha passato un po' di avventure, infatti il logo è un po' consumato, la lucidatura della clip ne ha tolto un po' del colore, porta i segni di un utilizzo piuttosto normale. Non definirei intenso, perché comunque è stato un utilizzo accurato. Poi, parliamo di una penna senza dubbio a stantuffo, con una turning knob, quindi una manopola che si gira sul fondo, un fondello. E questo fondello, ruotandolo, fa retrocedere lo stantuffo, oppure lo fa scivolare verso il basso, in modo tale da poter attingere all'inchiostro. In questo momento non lo posso fare, la finestrella come vedete è scura, qui c'è una finestrella dell'inchiostro, perché è stata caricata con Waterman Absolute Brown, quindi non vi farò vedere né la finestrella vuota né il movimento del pistone, che comunque è funzionante. Parliamo di un pennino placcato in oro, che dovuto ai lavaggi e al passare del tempo sta perdendo un po' della placcatura. Generalmente non amo i pennini placcati in oro, proprio perché hanno questo difetto. Non ve li consiglio particolarmente, perché la placcatura nel corso degli anni, e con i lavaggi normali di una penna, tende a perdersi. Ho avuto lo stesso problema con delle Waterman, sempre scolastiche, di mio padre, che hanno iniziato a perdere. Qualche colpo di placcatura. Allora, faccio una prova di scrittura. A questo punto però due cose. Innanzitutto devo ringraziare il mio amico, che ha deciso di restare anonimo per il comodato d'uso della penna. Mi dispiace, ma te l'acquisterò. E poi adesso vado a pescare il nuovo pangramma di un follower del canale, che si chiama Domenico98, e lo ringrazio per averlo condiviso con me. Adesso facciamo una prova di scrittura. Un momento solo. Eccomi qui. Allora, inclino un pochino il foglio per una postura a me più congeniale. Domenico98 ha condiviso col canale questo pangramma, la vera essenza di una stilografica, la cogli, quando, al buio, scarabocchi. Bellissimo pangramma, tra l'altro, in tema con l'oggetto principale del canale. Grazie Domenico98. Qualche osservazione sulla penna, in termini sia di variazione di tratto. Il pennino, probabilmente perché vintage, vi offre la possibilità di fare un minimo di variazione di tratto. All'inizio, quando mi è stata affidata, il pennino aveva qualche problema, grattava un pochino. Come ho risolto il problema del pennino? Senza dubbio c'era da esaminarlo bene con una magnifier che desse un buon ingrandimento. Questo mi ha concesso di osservare l'allineamento dei rebbi del pennino. Cosa sono i rebbi? Sono le due, chiamiamole braccia che si congiungono verso la punta, ok? È giusto per, non sono braccia, sono rebbi, ma è giusto per farmi capire, a spiegarmi, tentare di spiegarmi un po' meglio, perché non è un concetto semplice. Allora, vediamo se riesco a inquadrare lo stato del pennino. Fondamentalmente, ecco qua, dovreste analizzare il pennino in questa maniera qui. Lo avvicinate alla lente, la lente la tenete molto vicina agli occhi, e vi assicurate che i rebbi del pennino siano perfettamente in linea. Non è ancora questo il caso. Io vedo il rebbio destro del pennino, che è leggermente verso l'alto. Quindi, in questo caso, cosa potremmo fare? Potremmo alzare il pennino del rebbio sinistro, o abbassare quello destro, in modo tale da porli un po' in linea. Questo senza dubbio, un minimo disallineamento tra i rebbi, può causarvi una grattatina a seconda dei sensi di scrittura. Come tutte le pelican, vabbè, la faccio perché comunque è giusto avere una prova completa, la penna non dà skipping, non dà problemi di flusso discontinuo, qui non semplicemente ho deviato prima di fare l'occhiello, non è uno skipping. Sono particolarmente soddisfatto delle pelican in generale, sono delle buone penne. Questa è addirittura una penna vintage, quindi è passato un bel po' di tempo. Ciononostante, malgrado l'uso intensivo e via dicendo, è una penna che scrive bene, ok? Proviamo a vedere se gratta in determinati sensi. In questo ho un po' di feedback, ma non è un grattare. In questo ho meno feedback ancora. In questo senso non mi dà assolutamente problemi. In questo nemmeno. La penna non gratta più, anche se sui pennini c'è ancora da lavorare. Oltre al disallineamento ci sono dei fogli di ottone che ho usato, sono specifici per questo problema. Quando i pennini, i rebbi del pennino, sono particolarmente uniti oppure hanno un inchiostro incrostato tra di loro, è necessario passare un foglio di ottone in modo tale da pulire bene l'interno del pennino e questo dovrebbe facilitare un flusso normale dell'inchiostro. Ve li vado a prendere perché è giusto che li vediate. Eccoli qua. Questo è un foglio dal spessore veramente sottile ed è in grado di penetrare tra i rebbi del nostro pennino. Ve lo faccio vedere perché è giusto avere una prova sperimentale. Naturalmente fate molta 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 attenzione perché è un'operazione delicata. Ecco, il pennino scorre sul foglio di ottone e si va verso l'esterno e in questo modo si separano per un breve attimo i rebbi un attimo che può durare quanto volete ma il concetto è quello di liberare dalle impurità senza dubbio e anche separare i rebbi poi sulle operazioni che si possono fare su un pennino per allinearlo meglio magari farò un video a parte. Per il momento è tutto ringrazio i miei due amici Domenico 98 è l'anonimo gentile che mi ha assegnato questa penna la prima volta che l'ho conosciuto grazie veramente tanto a entrambi e buona navigazione a tutti quelli che seguono il canale se avete dei commenti da fare su questo video siete liberi di farlo naturalmente mi fa molto piacere conoscere la vostra opinione grazie a tutti e al prossimo video stilograficamente parlando ciao grazie a tutti grazie a tutti